La ONUS Dolorenzo Milani aderisce all'iniziativa Il Maggio dei Libri e nel rispetto della salute comune adotterà, anche in questa esperienza, misure del contenimento del contagio. Io leggo a casa. Buon pomeriggio, eccoci, ci ritroviamo, vi presento con piacere l'ospite della nostra settimana che dedica il proprio tempo al Maggio dei Libri. Grazia Petrone, docente di lettere presso il liceo Salesiani Pio XI, nonché collaboratrice del dirigente scolastico e esperta di tutta l'area inclusione. Dedica il suo studio, la sua vita a quelle che sono le sue passioni principali, la letteratura ma soprattutto la poesia. E ciò gli ha permesso di condurre anche delle specializzazioni e degli studi specifici in Finlandia presso l'Istituto Classico di Helsinki. Ed è con piacere che vi lascio alla dedicitazione della poesia della professoressa Petrone. Una poesia di Eugenio Montale tratta dalla sua raccolta poetica Satura. Ho sceso dandoti il braccio. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro viaggio. Il mio dura tutt'ora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio. Non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto fuscate, erano le tue. Questi versi sono dedicati alla moglie di Montale, Drusilla Tanzi, e rappresentano, sottolineano, l'importanza della donna nella vita, nella quotidianità del poeta, che si raffigura attraverso un gesto un po' cavalleresco, le tende un braccio, è un gesto che evoca amore, tutto il profondo rispetto che Montale nutriva per sua moglie. I due vengono dipinti come due uomini che hanno sceso milioni di scale. Ecco, questa è un'espressione iperbolica, un'espressione metaforica indicante le scale della vita, le vicissitudini, le difficoltà che i due coniugi hanno evidentemente affrontato e superato insieme. Drusilla Tanzi viene rappresentata con estrema tenerezza da Montale, viene rappresentata come una donna molto saggia, e ne viene evidenziato anche il suo difetto visivo, il suo problema visivo. Era infatti una donna che non vedeva bene a causa di una forte miopia, e nonostante ciò, la vera guida della coppia è proprio Drusilla, in quanto i suoi occhi, le sue pupille, non riescono a focalizzare bene la realtà circostante, ma riescono a guardare oltre, oltre le apparenze, ed è proprio qui che è racchiusa la concezione montaliana dell'esistenza. La vita viene associata ad un mistero, un mistero insondabile, il mistero più profondo dell'uomo. Non ci resta altro che vivere la vita stessa, viverla oltre la superficie, fino in fondo, per poter scoprire questo meraviglioso mistero.